Regala alla tua azienda un sito capace di comunicare. Chiamaci. Il disegno di legge sul testamento biologico continua a far discutere e le posizioni tra maggioranza ed opposizione restano distanti. Comunque qualche segnale di avvicinamento sembra esserci e in queste ore si sta tentando una mediazione tra le diverse opinioni sull'argomento. Gasparri continua a ritenere che un'apertura al confronto possa ancora esserci, ma ribadisce che non ci sarà alcuna apertura ad ipotesi di eutanasia. L'atteggiamento del relatore Calabro e del presidente Tomassini è di grande apertura al confronto, però ci sono principi che per noi sono intangibili. Nessuna apertura all'eutanasia in qualsiasi forma e ribadiamo che l'alimentazione e la somministrazione di acqua non è una terapia, ma è un diritto che non si può negare a nessuno. La risposta a Gasparri e quindi la posizione del Partito Democratico è molto chiara e la possiamo cogliere nelle parole di Anna Finocchiaro. Secondo noi il testo deve essere l'applicazione del principio secondo cui nessuno può essere contro la propria volontà sottoposto a un trattamento sanitario. Se conveniamo su questo punto d'attacco, su questa impostazione, il resto sarà una discussione e un confronto che io mi auguro il più proficuo possibile, ma insomma parleremo la stessa lingua. Grazie a tutti.